Siamo in via bolla a Milano per anni paragonata ad un girone infernale a causa delle occupazioni abusive. Ora dopo la blitz delle settimane scorse appartamenti occupati abusivamente non ce ne sono più e la popolazione quella regolare è decisamente molto più serena. Dopo che è stata liberata la zona come vi trovate? Siamo tranquilli, per il momento siamo tranquilli. Come si vive adesso? Meglio, è così perché prima non si riusciva anche ad uscire tutta la spazzatura che c'era e tutto il resto, adesso stiamo meglio. Sicuramente migliorata nel senso che di fatto c'è meno paura anche nel parcheggiare e comunque sia non rischio che mi prendano appallonate la macchina. No, no, sicuramente è migliorata. Io giro qua nel quartiere e mi dicono comunque che la notte riposano meglio. Scusa, dopo il blitz che ha liberato diversi appartamenti dalle occupazioni abusive, adesso come si vive qua? Adesso è totalmente un'altra storia. Io non ho mai sentito così tanto tranquilla la via, così tanto silenzio. Sta anche diventando un po' più pulita, adesso stanno mettendo tutte le impalcature per rifare le facciate e fa anche strano, sinceramente non hanno mai lavorato così in questa via, non me l'aspettavo da un giorno all'altro. Siete contenti? Posso dire di sì. Dopo il blitz che ha portato alla liberazione di molti appartamenti occupati abusivamente, com'è la situazione adesso in via Bolla? Sicuramente molto più tranquilla, c'è meno polizia in giro, però in generale più tranquilla rispetto a prima. Siamo proprio cambiati totalmente, che tranquillità mai esista. Quindi oltre a un problema di sicurezza c'è un problema di igiene? Anche quello, perché alcuni giorni che c'erano i carabinieri, i vigili, poi ti leggono tra loro, le lanciano. L'ultima cosa, hanno fatto il fuoco lì, l'ultima scala, hanno c'è il fuoco della Madonna, era da 3 di notte, che avevo il mattino, trovato in chiesina la Madonna. Trecete il fuoco, la polizia. Adesso siete felici quindi? Tranquillissimi qua, qua proprio in un'altra zona, un altro mondo.